Sono diverse le segnalazioni che Fano TV raccoglie tramite il numero di redazione di Occhio e la notizia 338 4968 250. In questo servizio alcuni residenti di via Gentile da Fabriano a Fano ci hanno contattato per evidenziare la pericolosità di questa strada tra alta velocità e poca sicurezza, ad iniziare dalla discesa per chi proviene da Viale Battisti, dove a volte non viene dato lo stop da chi proviene dal parcheggio del Van Vitelli. Più volte abbiamo fatto segnalazioni anche insieme agli altri cittadini, alla polizia municipale che ringrazio che hanno mandato a volte dei controlli con i sensori laser per l'autovelox, però non è abbastanza perché qua specialmente il pomeriggio, la sera, c'è gente che sfreccia 70-80 all'ora, ma minimo 50. Quindi l'incolmibilità dei nostri nipoti e figli è messa proprio in pericolo, noi ciclisti, pedoni, anche quando vuoi semplicemente buttare magari la raccolta differenziata eccetera. Alcune delle soluzioni che i residenti propongono sono quelle di evidenziare meglio il limite dei 30 km orari su tutto il tratto, applicando segnaletica verticale, insegne luminose o anche dossi artificiali. E manca la segnaletica stradale, proprio al limite del scarso, insufficiente, inesistente, perché vi è come vedete un cartello 30 all'ora lì, perché arrivano gli utenti della strada che non hanno proprio la segnalazione che questa è una strada importantissima, però è a 30 all'ora. Io faccio appunto un appello anche ai cittadini franesi di rispettare anche il doppio senso, perché molte volte c'è qualcuno che ha invaso la corsia centrale dicendo tu qua non passi perché è senso unico, quindi ogni volta litigi, perché qui c'è una segnaletica stradale divisa, una lira di mezzeria, che indica e poi c'è anche un cartello che è un doppio senso. Però purtroppo questa ancora non viene capito, insomma questa è una strada molto importante, perché quando poi riprenderanno le attività a pieno regime a settembre, questa è l'alternativa via Legramci, quindi chi va a Pesaro eccetera, o a scuola, passa da qui. Ma i problemi non finiscono qui, perché alcuni abitanti segnalano l'incuria delle mura malatestiane, ormai rovinate dall'invasione dell'edera e dall'erba infestante, covo di ratti e bisce, e poi la mancanza di cassonetti per lo sfalcio delle potature e infine la richiesta di installare delle barriere antirumore dovute al passaggio dei treni merci molto rumorosi. La Firovia dello Stato voleva darci qualche anno fa, ma purtroppo l'ultima amministrazione sembra che l'abbia cancellata. Noi vorremmo che ci fossero delle barriere antirumore come ci sono a Senigallia, a sud della stazione di Senigallia. Un'altra cosa importante è che non si riesce a sistemare il problema decennale delle acque meteoriche che scendono giù dal centro storico e che vengono qui in via Gentile a Fabriano rischiando, come già successo diverse volte, che ci allaghiamo i garage. Poi la famosa scalinata che ci porta in città, che sono più di 80 anni che è lì e che ha bisogno di manutenzione e la balaustra non è più a norma. Infine altri cittadini lamentano il degrado del parcheggio provvisorio estivo e la maleducazione di alcuni automobilisti che parcheggiano nelle aree di sosta sul lato sinistro di via Gentile da Fabriano occupando con una sola auto il posto per due o più vetture come dimostrano queste foto arrivate alla nostra redazione. Si chiede gentilmente alla nuova amministrazione di provvedere a risolvere questi problemi decennali in via Gentile da Fabriano.